Torna l'influenza, è il momento di fare il vaccino. Non farti influenzare, proteggi la tua salute e la salute degli altri. Vaccinati, questo l'invito che l'ASP di Caltanissetta rivolge alla cittadinanza e in particolare agli over 65, i soggetti a rischio e le donne al secondo o terzo trimestre di gravidanza e chi svolge un'attività di valenza sociale. Il nuovo virus influenzale quest'anno minaccia di mettere a letto in tempi brevi 6 milioni di italiani. A far prevedere un'ondata influenzale più pesante del solito sono due fattori. Il primo è il largo anticipo con il quale già a fine agosto è stato isolato il virus. Il secondo è che i ceppi isolati contengono piccole mutazioni che predispongono a una maggiore circolazione dell'influenza. Il vaccino rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenirla e ridurre le complicanze. Abbiamo pensato alla vaccinazione anti-influenzale che oltre a ridurre i casi di malattia evita i casi gravi di influenza perché specialmente quest'anno gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità prevedono una influenza più aggressiva in quanto c'è stata una mutazione virale per cui raccomandiamo a tutta la popolazione e alla popolazione a rischio in particolare di sottoporsi alla vaccinazione. Quest'anno la vaccinazione come gli anni precedenti sarà somministrata da parte dei medici di medicina generale che hanno aderito tutti. Poi i pediatri che vogliono somministrarla la possono somministrare pure. Una particolare attenzione e raccomandazione rivolgiamo al personale dei servizi pubblici essenziali in quanto la malattia può provocare centinaia di casi di costrizione a letto e quindi non verrebbero assicurati i servizi pubblici essenziali. Un caloroso invito rivolgo ai miei colleghi, sia ai medici sia al personale sanitario che si vaccinino sia per evitare di ammalarsi e quindi ridurre le prestazioni all'utenza sia per evitare che contaggino i malati. L'Organizzazione per la Campagna Vaccinale Antimpluvenzale Antipinia Mococica 2016-2017 prevede la somministrazione del vaccino presso gli ambulatori di tutti i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna. A Caltanissetta, nel nostro comune, solo un medico non ha aderito. Tutti questi pazienti possono venire da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, presso l'ambulatorio di Via Cusmano. Grazie.